Un anno fa l'annuncio dell'ex premier Giuseppe Conte ha preludio di quanto dall'11 marzo 2020 sarebbe accaduto lungo l'intera nazione. Di Covid-19 ne sapevamo ancora poco, non che oggi le incognite manchino. A cominciare da un termine inglese del quale ignoravamo il significato ma a cui oggi siamo davvero avvezzi, lockdown. L'isolamento, la chiusura totale cominciò l'11 marzo e durò fino al 3 di maggio. I mesi più duri, quelli durante i quali dovemmo per la prima volta fare i conti con le autocertificazioni, i coprifuoco e le attività commerciali con le serrande abbassate. Ristoranti, negozi, cinema, teatri, piscine e palestre e gli amati bar, tutti con le porte chiuse. E i portoni delle scuole, chiusi anche quelli perché adesso si studia da casa. E poi i funerali, annullati, senza neanche la possibilità per i familiari delle tante vittime di questa infame epidemia di poter dare un saluto adeguato a chi non c'era più. Gli effetti personali in una scatola. Intanto il sottofondo terrificante era quello delle sirene delle ambulanze, impegnate ad accompagnare i pazienti colpiti dal coronavirus verso l'ospedale Morelli di Sondalo, divenuto polo covid. Tutti ci scoprimmo cantanti e musicisti da balcone. Le messe a porte chiuse provammo a portarvele a casa noi con gli appuntamenti domenicali in diretta tv, mentre dietro ad altre porte chiuse, quelle delle RSA, furono figli e nipoti, i primi a porsi la domanda epocale sul perché a marzo 2020 fossero morti tanti più anziani rispetto a marzo dell'anno prima. Tutti a casa, chi fortunato col computer davanti per lavorare in smart working, chi senza più un lavoro. Più che 365 giorni sembrerebbe essere trascorsa una vita. Qui, nella nostra provincia, di vite se ne sono andate via 821. Quest'anno l'abbiamo vissuto tutto, tutto d'un fiato. Oggi, che siamo divenuti in tanti esperti di epidemiologia, tra chi ha già dimenticato il funesto corteo di camion militari che da Bergamo trasportò qualcosa come 5.900 vittime e chi ancora si ostina a credere che il covid non esista, la speranza si chiama vaccino. E adesso bisogna correre.